Situazione decisamente controversa, quella che si è venuta a creare questa mattina a Colonnella qui con la posizione o comunque il tentativo di mettere le antenne e con i cittadini però che si sono opposti e che hanno bloccato almeno per qualche ora questa operazione. Qual è il suo commento Elena? Io ho saputo di questa iniziativa della protesta dei cittadini questa mattina e quindi come dovere di ogni consigliere sul territorio occuparsi delle problematiche dei cittadini sono venuta ad ascoltare le stanze delle persone. Ovviamente c'è preoccupazione, c'è preoccupazione per le antenne, c'è preoccupazione anche perché noi abbiamo un centro storico che va tutelato e non dobbiamo assolutamente in nessun modo provocare eventuali possibili disagi ai cittadini. Quindi quello che ho proposto anche ai cittadini come gruppo di minoranza è di fare un incontro. Noi adesso faremo un'istanza al sindaco, una richiesta in cui comunque si metterà al centro dell'attenzione questa problematica ma chiediamo che a questo incontro possano partecipare rappresentanti dei cittadini che possano esporre a pieno tutta la problematica, i vertici o comunque il responsabile di chi deve eseguire i lavori e di chi ha preso le decisioni, quindi qualche responsabile della telefonia e il sindaco oltre ovviamente esponenti della minoranza. Questo perché? Perché secondo noi il dialogo è fondamentale per risolvere ogni problema. Probabilmente se ci fosse stato prima un dialogo con i cittadini, dato che comunque questa problematica è sentita già da diverso tempo, adesso è aumentata di consistenza perché effettivamente si passa al 5G e ci sono tutti i dubbi del caso, però era una problematica già presente, quindi comunque sia l'amministrazione deve dialogare con i cittadini, deve prevenire. Adesso siamo arrivati ad uno step ulteriore, però cerchiamo di risolverlo questo problema, quindi chiediamo al sindaco chiarezza, chiediamo questo tavolo in cui comunque si mettono a confronto tutte le problematiche e i cittadini possano esporre i loro pensieri per cercare una soluzione che possa un po' essere conciliativa di tutte le esigenze.